Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò cosa può succedere durante la crescita dei limoni. Ossia questo, ecco qui. Come potete vedere, da un seme sono date tre piantine. Questo fenomeno è molto raro in natura e si chiama poliembronale. Ovvero che da uno stesso seme ci possono essere più embrioni e di conseguenza possono nascere più piantine. Come ho detto prima, appunto, questo qui è un fenomeno molto raro ma comunque bello da vedere, insomma. Sì, vedere nascere da un seme tre piantine non è cosa di tutti i giorni. Ecco qui. Questa qui ora la andrò a interrare in un vaso molto più grande e non le dividerò. Le lascerò crescere tutte e tre insieme. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima ragazzi.